www.marizopoli.it, interessante bando della Regione Lombardia per le piccole e medie imprese inserite in Regione Lombardia. Dal 22 gennaio, è importante, è possibile partecipare alla misura re-impresa, più di 20 milioni di euro a sostegno delle piccole e medie imprese, che hanno intrapreso e stanno per intraprendere un percorso di ristrutturazione del debito e necessitando di finanziamenti per il lancio del business. Interessante perché non si parte, sarà dal circuito bancario, ma è l'erogazione diretta da FI Lombarda, interessantissimo. Qui vi riporto il link degli importi e dei mutui, fino a 72 mesi il mutuo si può essere portato, da fino a un minimo di 400 mila a massimo di 2 milioni di euro, interessantissimo. PMI che hanno concluso positivamente la composizione negoziata della risoluzione della crisi di impresa, interessante. È da leggere benissimo e parte il 22 gennaio e finisce il 18 settembre, ma nel 2026 va a esaurimento fondi. Leggere e attivarsi!